È il momento di farsi la barba dopo una bella docina calda, direi che era il video perfetto per farsi sta barba da vichingo con mai tengo. Faccio la barba e arrivo. Oggi comunque è mercoledì e giustamente mi sono svegliato tardi, come mai mi consueto fare, ma oggi è un nuovo giorno, signori, domani si va a Milano e stasera si è il pop, quindi oggi bisogna stare belli focused con gli obiettivi della vita, va bene? Faccio così perché non mi vedo bene e sono a fuoco o meno. Spero di bruciare il dio cazzo. Sembra proprio uno spazzaneve. Sbarbato come nuovo. Eccoci qua belli sbarbati, belli puliti, belli freschi, in realtà belli freschi il cazzo perché ho come l'impressione che mi stia ammalando. E lo dico già da un po' effettivamente questa cosa perché ogni giorno che passa, ogni tot, i giorni che arrivano mi viene qualcosa. Oggi ho mal di testa, mi gira la testa e non mi sento tanto in forze ecco. E lo sto notando più che altro mentre mi facevo la barba, un po'... Mi girava un pochino il tutto e cose di questo tipo, ma va bene così, non ci preoccupiamo. Mi ho preso un occhi, passerà tutto il prima possibile, ok? Dai. Mi sono messo anche il pile, il magico palettino di piano, ma è... Qualche volta ce l'ho fatto il video, mi sa se non mi sbaglio perché effettivamente c'è freddo oggi. Questo è il tempo per intenderci, c'è proprio un bel tempo oggi. C'è proprio un tempo della madonna, giusto giusto per uscire e stasera appunto i pop. Domani devo andare a Milano, quindi non mi devo ammalare per nulla perché anche sabato devo andare a Milano. Cioè diciamo che è una settimana abbastanza importante ecco per uscire in generale. Diciamo che ho un po' di roba da fare, non vorrei buttare il tutto solo perché mi ammalo adesso, ok? Quindi speriamo in bene perché potrei nervosirmi per sta cosa, ok? Si è trovata anche la magica soluzione del caffè. Ecco abbiamo del caffè in polvere che molto banalmente, se andiamo a farci un caffettino, lo andiamo a inserire qua dentro. Grazie al magico cucchiaione che ci ha fornito la mammina ecco. Perché qua c'è il magico decaffeinato che non me ne fiega letteralmente un cazzo di berlo. E quindi adesso proviamo a farci il caffè con questo caffè qua. Vediamo come verrà. Molto banalmente alziamo il cazzettino qui. Non sta su, perché non sta? Ok sta su, perfetto. Andiamo a prendere il coffis. Giusto un misurino e lo andiamo a mettere qua dentro. Adesso c'è una possibilità che venga di merda perché l'ultima volta che l'ho fatto non è un po' buono buono sto caffè. Però si testa, si fanno un po' di test, bisogna dire se la macchina si deve abituare, no? Quindi vediamo come esce, se esce qualcosa di intelligente. Ho molta paura, sono sincera. Non lo so ragazzi, a me sembra acqua sporca in certi punti. Si fa il test. Si prova. Com'è? Fa cagare. E buttalo via. Non so perché ti sei messo in testa di far così. Poi si sporca anche di più la macchina. Che vittoria? Devo essere obbligato a bere il caffè decaffeinato. Vabbè no buono comunque, no buono. Ok signori, il caffè è no buono per niente. E diciamo bocciato per oggi. Quindi mi toccherà bere il decaffeinato. Anche se in realtà la macchinetta sta facendo un po' cagare in stigione quindi non so. E quindi niente. Comunque piccolo fan fact, voglio di cominciare un po' a streamare, no? Mi sta tornando quella piccola voglia. Sarà un po' per il tempo, sarà un po' per i giochi che stanno uscendo, queste cose magiche. E lì si ero streamato Silent Hill 2 remake appunto. Mi fa ridere il fatto che appunto volevo streamare anche stasera. Ma purtroppo non potrò perché sono fuori anche stasera, come anche domani sera. Tranne venerdì, quindi venerdì streamerò sicuramente. E dopo quando mi comincio a streamare ho delle robe da fare, logicamente. Come è sempre stato, ecco. Perché la voglia mi viene quando mi attivo effettivamente in modo di uscite. Se si può dire così, ok? Boh, non lo so. Comunque questo è appunto streamerò venerdì ma poi sabato devo uscire. Quindi sabato non ci sarò tutto il giorno perché sono a Milano. Domenica streamerò. Lunedì non ci sono perché viene Matteo a Milano. Ciao Piacenza, quindi non ci sarò. E voi pop la... No, in realtà la sera ci posso essere lunedì. A me vediamo, non voglio farmi i piani inutili a caso. Quindi ragazzuoli. Per oggi va bene così. Vi ho fatto un po' vedere oggi la mia, diciamo, giornatina. Dove mi faccio la barbettina è bassa. Oggi ho sapevo cosa fare effettivamente. Quindi accontentatevi, mi accontento anch'io. Non lo so, va bene? Va a far mo... E niente. Comunque sì, se venite in live io ci sono, gioco a Silent Hill. E vi ricordo che ho un secondo canale dove carico robe di gaming. Tipo oggi ho caricato un video, anche lì. Quindi link in descrizione e andate a vedere e a iscrivervi, mi raccomando, ok? Ciao!